Obiettivo Delta è neutralizzato Abbiamo appena conquistato l'obiettivo Echo C'è un mezzo corazzato nemico, a est della tua posizione C'è un mezzo coraggio Un mezzo coraggio C'è un mezzo coraggio What the fuck was that? FALCO 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 Nope L'obiettivo bravo è sotto il nostro controllo. L'obiettivo bravo è sotto il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito www.mesmerism.info L'obiettivo bravo è sotto il nostro corso gratuito www.mesmerism.info